Buongiorno Orchidea di Mirosau, Orchidea di Medicina per l'Anima, vi ricordo sempre il nuovissimo libro, ormai sapete tutto, Orchidea storia e personaggi, quarta edizione, tre grandi pregi in questa poco, è semplicissimo, l'ho scritto io. Oggi voglio presentarvi una bellissima orchidea che fiorita adesso, è l'unica pianta che abbiamo, non chiedetemi che non ne ho più, è una pianta vecchia che c'è da tanti anni, è l'enciclale murale che vede dal Messico e anche profumata e fiorisce sempre con l'epoca qui verso giugno, con questa profusione di fiori bellissimi anche profumati, veramente bella, si chiama enciclale murale, sinonimo di enciclale di no cavola, comunque sia enciclale. Oggi voglio parlarvi delle associazioni appassionati di Orchidea, che in Italia ce l'è un po', le trovate in internet. Allora, cominciamo dall'alto, c'è l'associazione Trentino Orchidea, si chiama ATO, associazione Trentino Orchidea, il presidente Claudio Frenes, un tipo simpaticissimo, ed è della zona appunto del Trentino. Mi ricordo che qualche tempo fa, a una mostra, c'era un appassionato di Orchidea di Verona, che ho dato, un appassionato da tanti anni, gli ha detto, ah ti presento Claudio Frenes, che è il presidente dell'associazione Trentino Orchidea, ah si, sei di Trento, si fa, allora mi associo, perché è sempre meglio andare a nord, vabbè, non so, ma la spirituaggine di questo grande appassionato veronese. Vabbè, poi, più a nord ancora c'è le FDO, che sarebbe amici delle orchidee dell'alto padice, lo trovate su FDO. Poi, invece, venendo giù, in Lombardia abbiamo l'associazione Amatori Orchidee, l'associazione Lombardo Amatori Orchidee, che ha sede qui a Varese, l'associazione, una delle più antiche associazioni italiane, e adesso è abbastanza in movimento, perché c'è il nuovo gruppo direttivo, e si sta dando molto da fare, per cui, eh. Poi abbiamo in Piemonte l'associazione Piemontese Orchidee, APO, APO, poi ve le metto sotto tutte queste qua. In Veneto abbiamo l'associazione, ATAU, associazione Triveneto Amatori Orchidee, che ha sede, mi pare, a Treviso, e poi adesso c'è la FIO, Federazione Italiana Orchidee, che ha sede, anche loro, mi sembra, dalle parti di Treviso. Poi, andando giù, abbiamo l'associazione Emiliano Romaniola Amatori Orchidee, anche questa è una delle più vecchie, in Rado si chiama l'associazione Emiliano Romaniola Amatori Orchidee, è una delle associazioni più vecchie, anche questa, appuntata, una delle prime associazioni, assieme alla LAO. Poi, andando ancora giù, ah no, a Bologna c'è anche la SFO, Società Persine di Orchidologia, che questi qui sono probabilmente i più tecnici, i più forti di tutto tecnicamente, eh, hanno dei personaggi notevoli. Poi, andando giù, abbiamo la Amatori Orchidee Centro Italia, IOCI, che è una presidentessa, che è veramente molto dinamica, per cui fanno un sacco di iniziative, sono molto bravi, iniziative sia a Baby Marcosì, ma adesso fanno anche delle passeggiate alla cerchia di Orchidee spontanee. Poi c'è la MAO, associazione Amatori Orchidee del Sud Italia, penso di averle dette tutti e tutti. Allora, tutte queste associazioni, ah sì, abbiamo anche a Milano, c'è un'altra piccola associazione che si chiama GAU, Gruppo Amatori Orchidee, che sono di Milano, li trovate in Italia cercando GAU, Gruppo Amatori Orchidee. Poi c'è, a Genova, non so se c'è ancora c'era il GAU, Gruppo Amatori Orchidee, che c'era tutte le vecchietti come me, adesso però c'è un bel gruppo di nuovi appassionati di Orchidee a Genova, penso che la rimettono in funzione. Allora, dicevo, appassionati Orchidee è una cosa molto importante, perché queste associazioni possono fare un sacco di cose, e alcune stanno facendo, perché la LAO, la SPO di Bologna, quella della Amatori Orchidee Centro Italia, sta facendo veramente tante iniziative e si stanno largando bene, però l'associazione fa quello che vogliono i soci, cioè se i soci sono quattro gatti non si fa niente, bisogna che i soci, poi i soci non è pagare la quota che è solitamente 20-30 euro, poi ti danno il notiziario, il giornalino, così, ma fanno anche acquisti collettivi, vendita di materiali, consigli pratici, mostro, organizzano mostro, organizzano gite, insomma fanno un sacco di cose, e con più i soci c'è, con più l'associazione funziona, perché se l'associazione ha 30 soci, voi volete che faccia, 30 soci per 20 euro sono 600 euro, ma non fanno niente, la soci è un'associazione per fare qualcosa deve avere un po' dei soci, e soprattutto avere soci che lavorano, che partecipano, partecipano attivamente all'associazione, non è solo che si associano, pagano la quota e basta, l'associazione è proprio, rispecchia i suoi soci, così queste associazioni che sono molto dinamiche rispecchiano i suoi soci, il direttivo della LAO, quella dell'SPO e quella dell'Ammatori del Centro Italia, per cui associatevi che ne vale sicuramente la pena, avrete un sacco di vantaggi all'associazione, poi parteciperete alle riunioni, solitamente fate riunioni in Messili, e conoscerete tanti altri appassionati come voi, potete scambiarvi informazioni, scambiarvi piante, potete fare un sacco di cose, per cui manteniamo vivo queste associazioni che hanno perso molto con l'aumento di internet, ma adesso ci sono queste nuove che stanno reagendo molto bene, sfruttando internet, cioè facendo i webinar, io su quelli che posso partecipo, perché quando li fanno negli orari che possiamo partecipo, vabbè dai, a domani!